22 novembre a Taranto vuol dire Natale. Puntuali e immancabili le bande di Santa Cecilia che all'alba, anche quest'anno, con le dolci e sognanti note delle pastorali, hanno dato inizio alle feste del Santo Natale. È un appuntamento atteso dai bambini, ma anche dai più grandi, che amano sempre ricordare l'infanzia. Appuntamento accompagnato dalla tradizione, non meno attesa, delle pettolate. L'odore della frittura e dello zucchero ha svegliato questa mattina la città dei Due Mari. Ovunque, nelle case, nei negozi, nei garage e compostazioni di fortuna, si frigono pentoloni di pettole in attesa della banda. Dalle strade salgono profumo e fumo dalle frigitrici e note di festa dagli strumenti dei suonatori. Questa è Santa Cecilia. Nessun capriccio oggi dai bambini a Taranto per svegliarsi, anzi scendono dal letto prima per gustare le pettole calde. E se ne troveranno per tutta la giornata, dalla scuola alle case dei parenti. Sono iniziate, insomma, le festività di Natale. Oggi è il giorno dell'albero, simbolo della Trinità per la sua forma triangolare e del presepe, segno dell'arrivo di Gesù Bambino, allegoria di come i cuori devono farsi grotta per accogliere Dio. Il Natale a Taranto, insomma, quando arriva Santa Cecilia, è proprio ormai vicino. Dunque, buone feste a tutti! Grazie! Grazie!